Saranno otto ed andranno ad aggiungersi agli undici già assunti con il primo bando per i lavori socialmente utili. Il Comune di Arezzo ha infatti emesso un nuovo bando per altre otto posizioni da ricercare fra coloro che percepiscono trattamento di sostegno a reddito, compresa la cassa integrazione in deroga o il trattamento straordinario di integrazione salariale. Sono altre agli undici che abbiamo già ormai da quasi sei mesi, che ora sono in proroga. L'esperienza è andata veramente molto bene, quindi abbiamo deciso non soltanto di replicarla ma di aumentare la forza lavoro che già abbiamo. Crediamo di dare una risposta sociale innanzitutto perché facciamo sì che alcune persone che diversamente starebbero a casa possano lavorare, mettere qualche soldo in più in tasca e rendersi utili per la comunità. In questi mesi hanno fatto veramente tanto, siamo tutti molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto e crediamo che l'esperienza sia pertanto replicabile e che ci possa dare altrettanti risultati positivi. Gli obiettivi ovviamente vertono sempre la manutenzione in senso lato della città, quindi del verde, delle strade, degli immobili, del patrimonio comunale. In questi mesi credo che si sia vista e marcata la differenza, quindi punteremo ad incrementare ancora questo tipo di servizio che crediamo sia opportuno dare sia ai nostri cittadini sia ai tanti turisti che stanno soprattutto in questi mesi venendo in città. Il Bando è uscito venerdì e rimane pubblicato fino al 27 di maggio, potranno andare al centro per l'impiego a presentare domanda e dai primi di giugno sapremo chi collaborerà a breve con l'amministrazione. Grazie